Stiamo arrivando nella piazza ducale di Vigevano da via Cesarea, Cesarea perché? Perché al di là che da qui arrivavano i cortei ducali, da qui passò l'imperatore Carlo V, l'uomo sul cui impero non calava mai il sole dopo la battaglia di Pavia. Stiamo quasi per arrivare davanti a una delle meraviglie del Rinascimento Italiano. Ecco, qui abbiamo alcuni affreschi originali della piazza ducale risalenti all'anno di apertura, cioè 1492. E qui adesso arriviamo con la splendida cornice della Torre del Bramante, perché qui si parla tanto di Leonardo, quest'anno abbiamo celebrato i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, potevano essere celebrati meglio ma vabbè, ma si dimentica sempre il povero Bramante. Allora, 1492, questa è la statua di San Giovanni Nepomuceno, questo è un ricordo austriaco perché San Giovanni Nepomuceno era un santo boemo, santo protettore dei confessori perché è protettore contro i pericoli d'acqua, perché fu annegato, per ordine di Re Venceslao, di Bohemia, perché non aveva voluto violare il segreto del confessionale. Qua sotto c'è dell'acqua, abbiamo delle testimonianze, delle incisioni che fanno vedere fontane antiche, fanno vedere delle fontane qua davanti. 1492 è stata aperta la piazza, 1492-1494, qui abbiamo lo stemma degli Sforza, il Biscione che era già dei Visconti, la vipera che il milanese accampa, come diceva Dante Lighieri, non sappiamo bene da dove derivi, secondo alcuni era il simbolo di un guerriero che portava sullo scudo un guerriero saraceno, infatti il Biscione dovrebbe mangiare un arabo, un guerriero saraceno ucciso da Ottone e Visconti durante la crociata. Gli Sforza prendono il simbolo dei Visconti grazie al matrimonio di Francesco Sforza con una Visconti e si fondono le casate milanesi. Abbiamo Ludovicus Maurus, Ludovico il Moro è stato colui che ha fatto operare la piazza, Dux Mediolani, Duca di Milano, quindi questo dipinto già risale al 1494. Nel 1492 Ludovico il Moro non era ancora Duca di Milano, era solo Duca di Bari. Come possiamo vedere qui Ludovicus Maurus di Bari, Duca di Bari. Poi fece avvelenare il suo nipotino, il Duca di Milano, Galeazzo Sforza, si pegliò il titolo di Duca di Milano. Abbiamo delle piccole figurine, cosa raffigurano? Ovviamente nella moda dell'epoca, imperatori romani. Qui vediamo Vespasiano, imperatori o personaggi romani o simboli, cose simboliche tipicamente rinascimentali. Di là abbiamo la cattedrale di cui si parla sempre meno perché rinascimentale e barocca assieme. La facciata è barocca. Dietro c'è ancora la vecchia facciata rinascimentale. Vigevano è stata elevata a diocesi da Papa Clemente VII, Giulio Dei Medici, il Papa che si subì il sacco di Roma e dovette avere, ed ebbe anche qualche problemino con Enrico VIII d'Inghilterra. Venne elevata a diocesi nel 1530 e Ambrogio D'Alonate, uno degli architetti del Duomo di Milano tra l'altro, si occupò della parte rinascimentale del modellino nel Museo del Tesoro del Duomo. La facciata doveva fare da contraltare alla parte civile, ben rappresentata poi dalla torre di Donato Bramante, torre che sarà lei a essere il modello per la torre del Filarete. Andiamo a vedere un attimo la facciata. Questa facciata invece è successiva e barocca del 600 ed è stata non solo voluta ma addirittura fatta da Juan Caramuel I. Lopcovitz, vescovo spagnolo di Vigevano, genio. Si parla di Leonardo, ripeto, si parla tanto di Leonardo ma si dimentica I. Caramuel che prima di Leibniz scoprì il calcolo binario. Era un musicista, era un matematico, era un letterato, era un poeta, era un alchimista. Era uno che l'ha mandato a Vigevano perché era una diacesi piccolina e come sempre i veri grandi vengono puniti e non premiati. L'Italia, sappiamo bene, è la terra della mediocrazia pur avendo tanti geni. C'è questo paradosso del nostro paese, anche se era spagnolo, comunque la mentalità più o meno è quella. E lui pensò a questa facciata come una quinta teatrale. Una quinta teatrale. Barocca, bellissima. Adesso andiamo a vedere una delle grandi vergogni di questa città che ha un tesoro e ha dei tesori e manco lo sa, manco se ne accorge, sono rimasti con la mentalità degli scarpari perché qui si facevano le scarpe, ma sono rimasti con quella testa lì. E dei tesori e delle cose di cui andare orgogliosi non se ne accorgono. Stanno facendo andare in rovina un sacco di roba. Andiamo a vedere. Questo splendido albergo, che era un albergo, era il Cannon d'Oro, albergo Liberty, di ottocentesco, vediamo dei pregi novecenteschi che stanno andando in rovina. Perché è importante questo posto? E qui non se ne accorge nessuno. Adesso andiamo a vedere una lapide semidimenticata. Qui nacque la grande, la divina Eleonora Duse. Se ne sono sempre sbattuti i coglioni di questo, i signori qua. Perché adesso, vedete, c'è un mercatone cinese dove nacque Eleonora Duse. Ah no, c'è anche... Non dimentichiamo, è giusto per far condicio. C'è anche la Deutsche Bank. Poteva essere ristrutturato, poteva essere adibito a qualcosa di importante. No. Una volta era una standa, era un upium, è sempre stato un supermercato. Non è colpa solo dei cinesi che l'hanno preso adesso. Hanno fatto solo il loro lavoro. Qui è colpa dei vigevanesi che mai hanno valorizzato questa. Chiudiamo la passeggiata. con un pezzo della cosiddetta Rocca Vecchia, fatta nella parte più antica. Noi siamo partiti dalla parte più recente. Siamo partiti da Carlo V, a Ludovico il Moro e al Rinascimento. Qui andiamo proprio nel Medioevo. Il Podestà divigevano Lucchino Visconti che non c'entra niente col regista. Ecco qua. Il simbolo dei Visconti, il Bicione, la vipera che il milanese accampa, come la chiamava Dante Alighieri. e qui abbiamo la strada coperta, come vedete, del 1300. Guardate voi che meraviglia. questo ha i Vigievanesi se ne fregano tranne qualcuno, ma questo ha affascinato Lenny Kravitz. La rock star americana è venuta dagli Stati Uniti, si è fatta fare un selfie da queste parti, l'ha messa addirittura come copertina, non proprio qui. Un'altra parte della strada coperta, quella di sopra Lenny Kravitz si è fatto un selfie e se l'è fatta mettere come copertina, non mi ricordo più, se di un album o della sua autobiografia. Comunque era venuto qui a fare un concerto e ne rimase... Lui! Ne rimase affascinato. Lui! se avete occasione a 30 chilometri da Milano venite a farci un giro perché il posto merita davvero. Adesso chiudiamo con una panoramica di una delle più belle piazze d'Italia. cosa che ho dimenticato di dire prima adesso il Duomo è chiuso il Duomo è dedicato a Sant'Ambrogio che è il patrono di Vigevano il patrono come a Milano il patrono di Vigevano qui abbiamo un Sant'Andrea perché qui una volta sorgeva una chiesa di Sant'Andrea scomparsa qui c'è il seminario e quello che avevo dimenticato di dire sulla cattedrale affacciata del Caramo è genio dimenticato all'interno ci sono degli affreschi appunto dedicati a Sant'Ambrogio il patrono di Vigevano Sant'Ambrogio e eccolo là vediamo se lo avviciniamo eccolo lì col flaggello contro gli ariani gli affreschi sono opera del Gonin nome che a pochi dirà qualcosa il primo illustratore dei promessi esposi di Manzoni fu in accordo con Manzoni questo era il regno di Sardegna Gonin era piemontese era un valdese convertito al cattolicesimo se non era insomma un percorso simile a Manzoni e ha affrescato la parte alta poi ci sono affreschi più antichi però adesso non possiamo vederli perché la chiesa è chiusa ancora chiamavano il salotto d'Italia torre del Bramante purtroppo la luce non non aiuta e là dove vedete le bandiere era dove Ludovico il Moro duca di Milano si affacciava buono spero che vi sia piaciuta questa piccola gitarella interattiva a presto